Mi dispiace che la mia normalità sia considera come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così, bisogna essere se stessi. Sono le parole di un intervento social di Valentina Ferragni, sorella di Chiara, che è stato molto apprezzato. La ragazza manda un messaggio che non si ripete mai abbastanza, non mi sento sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più. Magari dimagrirò, vado in palestra ma di fatto mi godo la vita, a volte capita che qualcuno mi fermi per strada e mi chieda una foto quando sono struccata. Poi la pubblicano sui social e scrivono, guardate quanto è brutta. Allora mi chiedo, perché hanno voluto fotografarsi con me? Solo per insultarmi? Eppure davanti a me nessuno ha mai detto, vale non mi piaci. Magari non rappresento l'idea di perfezione ma preferisco essere imperfetta e accettarlo. Noi donne non riusciamo mai a volerci bene abbastanza. Un post che ha fatto il pieno di like che in molti hanno condiviso tanto che la stessa Valentina ha ringraziato con una Instagram story per aver capito il suo messaggio. La stessa stessa è Grazie a tutti.